Della sua esistenza lo abbiamo appreso due anni fa, ma per mesi e mesi è rimasto un illustre, si fa per dire, virus sconosciuto. Oggi lo chiamiamo confidenzialmente Covid e ne sappiamo molto, molto di più, anche se non ancora tutto. La cosa curiosa è che l'aspetto più odioso della pandemia, la durata, è invece quello più interessante dal punto di vista dello studio scientifico, in quanto consente di recuperare a lungo raggio e su vasta scala ogni tipo di dato. Lo sta facendo, per esempio, una ricerca condotta ancora una volta in sinergia tra la ASLE di Pescara e la professora Lamberto Manzoli, epidemiologo, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara. Il campo di indagine è, di nuovo la nostra regione, 1.300.000 abruzzesi, uomini e donne, residenti e domiciliati, vaccinati e non. I dati connessi al Covid, durata dell'efficacia dell'immunizzazione, reinfezione, effetti e tanto altro, sono in corso di elaborazione. I risultati verranno diffusi tra un paio di settimane. Intanto, dal laboratorio del CAST dell'Università di Chieti, il professore Astupia conferma che Omicron è diventata dominante, 80% contro il 20% della Delta, e che nei sequenziamenti non sono state rilevate altre varianti. In un altro contesto, l'unità di coordinamento assistenza territoriale ASL Lanciano Basto Chieti, il dottor Francesco Ricci è alle prese con il Long Covid e con il rapporto tra vaccino e malattia. C'è un articolo molto bello oggi di Israeliano che dice appunto su uno studio fatto su pazienti vaccinati che poi si sono infettati, anche vaccinati solo con due dosi e non solo con tre dosi, i quali appunto hanno avuto l'infezione e che non manifestano sintomi Long Covid. Quindi chiaramente il vaccino protegge anche da questo tipo di manifestazione clinica. Il Long Covid è una sindrome oramai molto ben caratterizzata, molto ben stabilita. I sintomi principali, che non sempre sono per fortuna contemporanei, sono quelli a carico dell'apparato respiratorio, quindi con di solito una risprima d'afforso, con un affaticamento dopo uno sforzo e quelli da neurologici, quindi persistenza di dolori, persistenza di situazioni di difficoltà proprio motoria e spesso anche disturbi della concentrazione, disturbi della memoria. Tutti questi sintomi spesso sono associati a un'astenia profusa, cioè la stanchezza è sicuramente il sintomo più comune del paziente Long Covid. Per fortuna dobbiamo dire che progressivamente questi sintomi vanno risolvendosi. Bisogna essere stati pazienti sintomatici Covid per essere pazienti sintomatici Long Covid? Mi perdoni l'approssimazione. No, no, assolutamente una domanda giusta. No, ci sono anche alcuni pazienti che sono stati asintomatici o paucisintomatici che spesso manifestano dei sintomi dopo il Covid, dopo alcuni mesi dal Covid. Long Covid e bambini? Long Covid e bambini, anche i bambini possono avere una sindrome non Covid, meno è stato visto degli adulti, ma anche loro possono manifestare questi sintomi, però devo dire che per fortuna sono molto meno quelli che manifestano sintomatologia rispetto agli adulti. Infine, da non sottovalutare l'aspetto psicologico del Long Covid? Molto spesso c'è bisogno di un inquadramento psichiatrico, quindi ci sono i colleghi che ci danno una grossa mano. Spesso si tratta anche di un vissuto familiare, penso a quei pazienti che hanno introdotto per esempio in casa la malattia non per colpa loro, perché si sono infettati per altri motivi e che hanno spesso infettati familiari che hanno avuto esiti particolarmente negativi.